Previsioni meteo per mercoledì 11 marzo. Al nord una perturbazione atlantica determina un aumento di nuvolosità medio alta su tutte le regioni, più spessa sul Triveneto. Al centro avvio di giornata buono su tutti i settori con tempo soleggiato, nuvolosità medio alta in aumento dal pomeriggio. Al sud tempo ancora instabile su Salento, Basilicata, Calabria e Sicilia con qualche acquazzone, neve sulla dorsale dai 1000-1300 metri. Venti deboli meridionali in rotazione da nord-est. Mari poco mossi, mosso il Tirreno. Temperature in lieve rialzo.